Città metropolitana di Messina, Università, Museo regionale, Teatro, Marina militare, Autorità portuale, CNR, Biblioteca regionale, Camera di commercio e poi fondazioni, associazioni, enti, tutti insieme con un unico grande obiettivo, fare di Messina la capitale italiana della cultura per il 2020, un obiettivo condiviso per un progetto ambizioso ma possibile. Abbiamo raccolto oltre 15 adesioni istituzionali a questo progetto, adesioni che non sono soltanto di forma ma sono anche di sostanza con contributi molto importanti che si verrebbero a realizzare qualora Messina diventasse capitale della cultura, sono tantissime le associazioni sparse sul territorio che hanno aderito a questo progetto e che hanno materialmente scritto sezioni del dossier. Quindi credo che l'aspetto più importante, quello che ci preme sottolineare, è proprio che questo è un dossier non dell'amministrazione, non dell'assessore Alagna, ma è un dossier della città nel suo insieme e della città che lo deve custodire e valorizzare indipendentemente da come andrà la selezione per la capitale italiana della cultura 2020. Messina a crocevia di culture e tradizioni, questo è il punto di partenza del dossier presentato al Ministero e illustrato questa mattina in conferenza stampa dall'assessore alla cultura Federico Alagna. È un dossier che vede i suoi punti di forza negli interventi strutturali che sono stati realizzati o comunque programmati e finanziati in città in questi ultimi anni, vede un altro punto di forza fondamentale in un approccio innovativo che guarda al passato sì ma con una proiezione al futuro, che fa tesoro della pluralità di identità che attraversano la nostra città e che si pone come sfida quella di trasformare tanti punti di debolezza o tanti aspetti che noi siamo abituati a vedere come punti di debolezza in punti di forza.